dove siamo Bettina? Bettina dice che siamo a Salina, ecco il paese di Santa Marina di Salina che vedremo meglio magari domani, non stasera se gli ospiti hanno voglia di andare a fare un giro tra i negozietti e i piccoli di Santa Marina non mi sembra che Susi abbia... no? no? Siamo arrivati a Lingua di Salina il sole sta tramontando, o meglio qui siamo lato est e quindi già in ombra che bel colore qui oggi a quest'ora è bellissimo ora scendiamo a terra, là in fondo c'è il faro di Lingua noi andremo a mangiare d'Alfredo che ci aspetta bello pimpante, vero Mauretto? è stato pimpantissimo pimpantissimo alla sua veneranda età ma è sempre pimpantissimo, più di noi due la stessa è sempre a caccia lingua quella la cerca sempre moletto di lingua e passeggiata per il ristorante prendi libro, lascia libro sullo sfondo la parte nord di Lipari e le belle case eoliane questa è bellissima, molto bella tipica case eoliana con tutto all'esterno e le tende bianche che danno fresco ecco il nostro ristorante d'Alfredo ciao 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 insomma naturalizia bisogna lavorare di più di piccoli grado perché devi lavorare ma no è venuto qualcuno che ha portato il famadoro io l'ho detto a lei 70 cassetti di famadoro non c'era nessuno lui soltanto tu devi fare il supervisore e basta mi piace lavorare per me e questo cos'è il faro di lingua all'infondo in questo momento il laghetto eccolo qua il laghetto salmastro di lingua è tutto rosato guardate che bel colore che ha lingua mattina presto questo è il solito nostro bello ormeggio che abbiamo solitamente in questa posizione di fronte a questa bella casetta con gli aleandri qui alla sera quando arriviamo ho il sole tuttavia dietro quella montagna che è sotto delle felci una montagna più alta di tutte le olie un vulcano spento quasi mille metri 970 approssimativamente di altezza adesso ci facciamo un giro da una parte nord dell'isola arrivando fino alla baia di polla grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti vuole poi avere la possibilità di scendere a terra, qui non c'è nulla, però è molto molto predevole, non si riesce a salire su. Qui sopra dove c'è il faro c'è anche un resort molto importante, una tenuta vinicola altrettanto importante. La salina è forse la più ruffiana delle isole aviane, nel senso che è molto curata, molto verde, quindi al primo impatto è l'isola che quasi sempre piace di più. Poi in realtà le altre isole si rivalutano, ecco, assolutamente. Fossa delle Feci, Monte dei Porri, due belle montagne, due belle, due bei coni vulcanici che sono quelli che contraddistinguono ovunque voi siate l'isola di Salina, fra tutte le altre isole. Malfa, l'esempio classico di coltivazione della Malvasia, sembra molto molto verde nel terreno estremamente valido per la Malvasia che ha, con seguito di un terreno vulcanico, i solfitti naturali, non occorrenti in terreno, quindi è un vino molto molto particolare, molto buono la Malvasia secca o la Malvasia passita, entrambe derivate da questo vitigno greco importato dai greci qua su queste isole, che ci è arrivati alla punta del Perciato con l'arco di roccia, qua sopra in cima alla collina c'è il vecchio faro utilizzato già dall'antichità per segnalare ai naviganti il promontorio, praticamente nella bocca di un vulcano sprofondato e Pollara è famosa perché in questa località è stato girato buona parte del film Il Costume di non si è trovisi, un po' prima di morire, qui a Pollara c'è la vecchia casa che è veniva utilizzata da Neruda e quindi su cui andava un postino Neruda è venuta trovata da Filipe Noire e la spiaggia, ecco Pollara, il piccolo villaggio è praticamente sull'alto piano un ancoraggio qui a Pollara e un bagno, olazione, mattina presto, sono le 9, siamo pariti alle 8 per anticipare un po' la presenza di altre imbarcazioni e ci passiamo a una buona mattina Stanno arrivando i nostri ospiti a bordo un'immagine di Pollara e del monte Fossa delle Felci Massimo Hello Ecco le nostre due fate, abbiamo due fate, dov'è la terza fata? La terza fata! La terza fata? Fata o strega? Fata, fata No, io sono la fattina buona La fattina buona, va bene Lui c'è la tartaruga, io c'è il carapace Anzi, lo diciamo tutti Bellino e fisico Bellino e fisico Bellino e fisico Bellino e fisico Grazie a tutti.